Cos'è una tenda termica isolante? La tenda termica isolante o tenda oscurante è spesso utilizzata per ottimizzare il comfort termico di una stanza, ma non solo. Questo tipo di tenda protegge efficacemente dal freddo in inverno e garantisce un certo isolamento acustico. Quindi, quali vantaggi offre la tenda termica oscurante, come si sceglie e a che prezzo lo si può trovare? Cos'è una tenda termica isolante? Una tenda termica isolante aiuta a mantenere la stanza calda e impedisce al freddo di entrare in casa. Inoltre, la tenda termica isolante isola dal rumore esterno. Dotarsi di una tenda termica isolante è, quindi, un buon modo per isolare la casa dal freddo, in una certa misura, e per limitare il rumore. È anche efficace in estate per isolare dal calore. La tenda termica oscurante può essere installata ovunque sia necessario all'interno, davanti a una porta, un bovindo, una finestra. Insomma, qualsiasi posto dove ci può essere una perdita di calore. Esistono molti tipi di tende termiche, adatte ad ogni budget e ad ogni sensibilità estetica ed ecologica. Quali sono i vantaggi di una tenda termica? Una tenda termica isolante o tenda oscurante offre 4 vantaggi principali legati alla sua natura isolante, isolamento termico. A basso costo, eliminazione dell'effetto muro freddo e migliore confort estivo. Migliore isolamento termico ad un prezzo basso. Una tenda isolante chiusa migliora il vostro isolamento termico isolando le finestre. Naturalmente, tutto dipende dalle prestazioni termiche originali della finestra e a volte l'effetto della tenda oscurante è più forte. Su vetri singoli che su vetri doppi o tripli. Una cosa è certa, l'installazione di una tenda termica vi costerà molto meno dei lavori di isolamento. Niente più effetto muro freddo per un migliore confort termico la differenza di temperatura tra il calore dall'interno e il freddo. Dall'esterno crea un effetto freddo sulla superficie del vetro chiamato effetto parete fredda. Questo è ancora più vero nel caso dei vetri singoli. Tuttavia, la temperatura delle diverse pareti ha una grande influenza sul confort termico percepito dagli abitanti. È quindi nel vostro interesse limitare questo effetto eliminando le pareti fredde con una tenda isolante e oscurante. Confort estivo migliorato grazie alla tenda termica. La tenda termica isolante è utile contro il freddo dell'inverno, ma anche contro il calore dell'estate. Infatti, l'energia solare e il suo calore entrano attraverso le finestre e aumentano la temperatura della stanza, che si surriscalda. È quindi molto utile installare una tenda termoisolante sulle finestre esposte a est e a ovest. Un altro modo per eliminare il 90% di questa radiazione solare è investire in persiane esterne. Isolamento termico, acustico e visivo una tenda oscurante può anche migliorare la vostra privacy in certe stanze della casa. Oltre a isolare dal freddo, dal calore e dal rumore, è anche interessante poter beneficiare di un isolamento visivo in casa. Come scegliere la tenda termica isolante? Ci sono diversi tipi di tende termiche. La principale differenza tra loro è il materiale. In primo luogo, le tende oscuranti possono essere fatte di PET, un materiale derivato dal petrolio o dal gas naturale. È un materiale comune perché è molto resistente e offre un eccellente isolamento dal freddo. In secondo luogo, ci sono le tende termiche in PVC. Sono più interessanti di quelli fatti di PET perché isolano efficacemente dal freddo e dal calore e forniscono un grande isolamento acustico. Una tenda termica blackout in PVC può essere foderata per combinare isolamento e decorazione. Alcune tende isolanti sono fatte di pile, un materiale che è altrettanto efficace come i due precedenti e che offre più estetica di un materiale sintetico. Infine, le tende oscuranti in lana a volte combinate con un altro materiale. Molto isolante e naturale al 100%, la lana è talvolta utilizzata come materiale. Quindi, per scegliere la vostra tenda termoisolante, tenete conto delle vostre aspettative, della vostra sensibilità ecologica e naturalmente del vostro budget. Qual è il prezzo di una tenda termica? Uno dei criteri principali per scegliere una tenda termoisolante o oscurante è il suo prezzo. Questo può variare tra 15 e 100 euro a seconda di diversi elementi. Questo prezzo varia secondo diversi criteri, il materiale della tenda isolante, la sua dimensione e le sue dimensioni, il marchio. Le tende termoisolanti in PET o PVC sono le più convenienti. Sono generalmente tra i 15 e i 35 euro. Questi materiali sono l'entry level delle tende termiche. D'altra parte, se ti interessa una tenda oscurante in pile, il prezzo parte da 35 euro, ma ha un eccellente rapporto qualità, prezzo, di isolamento ed è tanto decorativa quanto efficace. Le tende termiche oscuranti più costose sono quelle fatte di lana. Il loro prezzo supera facilmente i 50 euro e a volte raggiunge i 100 euro o più. Costoso da acquistare e mantenere, è comunque una tenda naturale ed ecologica oltre ad essere molto efficace. Una tenda termoisolante è un ottimo modo per isolare le vostre finestre, specialmente quelle con vetro a lastra singola. Meno costosa dei lavori di ristrutturazione, la tenda oscurante porta talvolta un tocco di estetica e di confort sonoro e visivo oltre a una temperatura ottimizzata. La tendenza Grazie a tutti.